Rissa in prossimità di un locale, sei giovani di cui cinque maggiorenni e uno minorenne denunciati dalla questura di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio risale alla tarda serata del 18 dicembre scorso. La scintilla che avrebbe scatenato la rissa sarebbe stato un banale diverbio avvenuto all'interno del bagno del locale tra giovani. A seguito infatti di uno spintone involontario ricevuto, uno dei ragazzi, poi denunciati, avrebbe cominciato ad inveire contro un coetaneo ed avrebbe poi chiamato in ausilio un gruppo di amici al fine di regolare i conti. All'arrivo del gruppo dei ragazzi la situazione sarebbe diventata incandescente poiché questi hanno cominciato a tirare in aria i tavolini e le sedie dell'esercizio commerciale, a lanciare bottiglie di vetro presumibilmente con il fine di vendicare l'onta subita, ossia la mancanza di rispetto nei confronti di un loro amico. Il gruppo di ragazzi avrebbe anche spintonato il titolare dell'esercizio commerciale e gli addetti alla sicurezza che tentavano di sedare la rissa. L'immediato arrivo delle forze dell'ordine ha provocato la fuga degli aggressori i quali in seguito all'attività di indagine della squadra mobile sono stati individuati e denunciati per i reati di rissa, danneggiamento e percosse in concorso. Si tratta di cinque maggiorenni come detto ed un minorenne già noti alle forze dell'ordine per pregressi simili episodi. Alcuni di loro avevano già partecipato alla violenta aggressione nei confronti di un sessantenne verificatasi qualche settimana prima in piazza Sant'Agostino e in quella occasione avevano provocato alla vittima lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Sono in corso ulteriori indagini per capire se in città stia agendo una nuova baby gang come quella guidata dal rapper Montana sgominata dalla polizia un anno fa.